Capitolo 24 Non avrò mai un altro cane Cock Robin aveva smesso di vivere esclusivamente di vermi e mangiava riso, mais, lattuga e semi di nasturzio. Era cresciuto fino a diventare enorme. Il grande pettirosso di Ingleside stava diventando famoso nei paraggi e il suo petto era diventato di un bel rosso. Si posava sulla spalla di Susan e la guardava lavorare a maglia. Volava incontro ad Anna dopo che lei si era assentata e saltellava davanti a lei mentre entravano in casa. Ogni mattina andava sul davanzale di Walter per le briciole di pane. Faceva il suo bagno quotidiano in una bacinella nel cortile sul retro, nell'angolo della siepe di rosa rubiginosa e se non trovava l'acqua nel catino faceva un pandemonio. Il dottore si lamentava a causa delle sue penne e fiammiferi che trovava disseminati in tutta la biblioteca. Ma nessuno gli dava soddisfazione nella secondare le sue lamentele e alla fine anche lui si arrese quando un giorno Cock Robin arrivò senza paura sulla sua mano a mangiare dei semi di fiori. Tutti erano stregati da Cock Robin tranne forse Gem che aveva consegnato il suo cuore a Bruno e a poco per volta ma sicuramente avrebbe imparato l'amara lezione che si può comprare il corpo di un cane ma non si può comprare il suo amore. In un primo momento Gem neanche ci pensò. Naturalmente Bruno avrebbe avuto un po' nostalgia di casa e si sarebbe sentito solo ma tutto sarebbe passato. Gem scoprì che non era così. Bruno era il cagnolino più obbediente del mondo faceva esattamente quello che gli era stato detto e anche Susan ammise che un migliore comportamento in un animale non lo aveva mai visto ma non c'era vita in lui. Quando Gem lo portava fuori all'inizio gli occhi di Bruno brillavano muoveva la coda ed era molto vivace ma non passava molto tempo che quel bagliore spariva dai suoi occhi e lui mitemente trotterellava accanto a Gem con la testa china. Tutti erano buoni con lui aveva a sua disposizione le ossa più sogose e con più carne nessuno fece la minima osservazione sul fatto che dormisse tutte le notti ai piedi del letto di Gem ma Bruno rimase lontano inaccessibile un estraneo. A volte nella notte Gem si svegliava e chinandosi lo accarezzava ma non ci fu mai un cenno di risposta come una leccata di mano o uno scodinzolamento. Bruno si lasciava accarezzare ma non corrispondeva. Gem strinse i denti. James Matthew Blight possedeva un bel po' di determinazione e non si sarebbe lasciato sconfiggere da un cane. Il suo cane che aveva comprato correttamente e onestamente con il denaro e con grande sforzo era riuscito a risparmiare. Bruno doveva superare la nostalgia per Roddy. Doveva smettere di guardarlo con quegli occhi patetici di creatura persa. Doveva imparare a volerli bene. Gem doveva spesso difendere Bruno perché gli altri ragazzi della scuola sospettando chiamava il cane cercavano sempre di stuzzicarlo. Il tuo cane ha le pulci grandi grandissime pulci lo derideva Perry Reese. Gem dovete picchiarlo prima che Perry facesse retromarcia dicendo che Bruno non aveva una sola pulce neanche una. Il mio cucciolo ha una convulsione una volta alla settimana si vantava Rob Russell. Scommetto che il tuo vecchio cucciolo non ha mai avuto una sola convulsione in vita sua. Se avessi un cane come quello lo farei passare attraverso il tretacarne. Una volta abbiamo avuto un cane così dichiarò Mike Drew ma lo abbiamo annegato. Oh il mio cane è un cane terribile disse Sam Warren orgoglioso uccide i polli e mastica tutti i vestiti nei giorni del bucato. Scommetto che il tuo vecchio cane non avrebbe abbastanza coraggio per farlo. Gem tristemente ammetteva a se stesso non a Sam che Bruno non aveva quel coraggio quasi sperava che lo avesse e fu punto sul vivo quando Watifleg gridò il tuo cane è un cane buono non abbaia mai di domenica perché Bruno non abbaiava neanche gli altri giorni ma nonostante tutto era un caro e adorabile cagnolino. Bruno perché non mi vuoi bene diceva Gem quasi singhiozzando non c'è nulla che io non farei per te potremmo divertirci insieme ma non ammetteva la sua sconfitta con nessuno. Una sera Gem tornò a casa di corsa da una mangiata di cozze al forno a Harbor Mouth perché sapeva che stava arrivando una tempesta. Il mare ne dava l'annuncio gemendo le cose avevano un'aria sinistra solitaria ci fu un furioso tuono nel momento in cui Gem entrava in Goldside. Dov'è Bruno? gridò. Era la prima volta che usciva senza Bruno pensò che la lunga camminata fino a Harbor Mouth sarebbe stata molto faticosa per il piccolo cagnolino. Gem non voleva ammettere che una simile camminata con un cane il cui cuore stava da un'altra parte sarebbe stata un po' troppo anche per lui. Risultò che nessuno sapeva dove fosse Bruno non era stato più visto da quando Gem si era alzato dal tavolo dopo cena. Gem cercò ovunque ma senza successo. La pioggia veniva giù a Catinelle il mondo stava annegando tra i lampi Bruno era fuori in quella notte nera si era perso. Bruno aveva paura dei temporali le uniche volte che era sembrato avvicinarsi a Gem in spirito era stato quando strisciava vicino a lui se il cielo si stava spaccando in due per i lampi. Gem era così preoccupato che quando la tempesta finì suo padre gli disse devo andare fino a Hid in ogni caso per vedere come sta Roy Westcott puoi venire anche tu Gem e sulla via del ritorno passeremo dalla vecchia Crawford idea che Bruno sia tornato lì. Sei miglia lui impossibile disse Gem ma era così. Quando arrivarono alla vecchia abbandonata e scura casa Crawford c'era una tremante inzaccherata piccola creatura rannicchiata tristemente sulla soglia fradicia e guardava con occhi stanchi e insoddisfatti. Non protestò quando Gem lo prese tra le sue braccia e lo portò sul calesse attraverso l'erba alta fino al ginocchio. Gem era contento quanto correva la luna attraverso il cielo quando le nuvole veloci le passavano sopra quanto erano deliziosi gli odori della pioggia nei boschi umidi quando ci si passava attraverso quale mondo c'era. Ora dopo tutto questo credo che Bruno sarà contento di stare in goal side papà? Bah forse fu tutto quello che papà disse. Che non se la sentiva di spegnere quel barlume di speranza ma sospettava che il cuore di un piccolo cane perdendo la sua ultima dimora si fosse alla fine spezzato. Bruno non aveva mai mangiato molto ma dopo quella notte mangiò sempre meno e arrivò il giorno che proprio smise. Fu chiamato il veterinario ma non trovò niente. Ho avuto l'esperienza di vedere un cane morire di dolore e penso che questo sia un altro di quei casi disse il dottore in disparte. Lasciò un tonico che Bruno prendeva obbediente poi si sdraiava di nuovo giù con la testa sulle zampe fissando il vuoto. Gem rimase a fissarlo per un po' con le mani in tasca poi andò a biblioteca per parlare con papà. Gilbert il giorno dopo andò in città fece alcuni accertamenti e portò Roddy Crawford a goal side. Quando Roddy si avvicinò ai gradini della veranda Bruno udendo i suoi passi dal salotto alzò la testa e tese le orecchie e un attimo dopo il suo piccolo corpo emaciato si lanciò di corsa verso il pallido ragazzino dagli occhi castani. Signora dottora cara disse Susan con tono timoroso quella sera il cane stava piangendo lo stava facendo le lacrime davvero scorrevano sul suo naso. Io non ti biasimo se non ci credi neanche io l'avrei creduto se non l'avessi visto con i miei occhi. Roddy teneva Bruno contro il suo cuore e guardava Gem con aria metà tra la sfida e la supplica. L'hai comprato? Lo so ma lui appertiene a me. Jake mi ha detto una bugia. Zia Vini dice che non la disturberebbe avere un cane ma ho pensato che non dovevo chiederlo indietro. Ecco il tuo dollaro non ne ho mai speso un centesimo non potevo. Solo per un momento Gem esitò poi vide gli occhi di Bruno. Che piccolo maiale che sono pensò con disgusto di se stesso e prese il dollaro. Roddy improvvisamente sorrise. Il sorriso cambiò completamente la sua imbronciata faccia ma tutto ciò che riuscì a dire fu un rauco grazie. Roddy dormì con Gem quella notte e con un Bruno completamente sazio steso tra di loro ma prima di andare a letto Roddy si inginocchiò per dire le sue preghiere. Bruno si accovacciò sui talloni accanto a lui e con le sue zampe anteriori sul letto. Se mai un cane avesse pregato allora Bruno pregava. Una preghiera di ringraziamento e di rinnovata allegria di vivere. Quando Roddy gli portava da mangiare Bruno mangiava avidamente tenendolo sempre d'occhio. Ora saltellava vispo e vivace dietro a Gem e a Roddy quando andarono giù a Glenn. Non ho mai visto un cane tanto contento di chiaro Susan. Ma la sera successiva dopo la partenza di Roddy e Bruno. Gem restò seduto a lungo sui gradini della porta nella penombra. Aveva rifiutato di andare a scavare tesori di pirati nella Rainbow Valley con Walter. Non si sentiva più splendidamente audace avventuriero e non guardava nemmeno Gamberetto che inarcato in mezzo alla menta dimenando la coda come un fiero leone di montagna era pronto all'agguato. Quali attività avevano i gatti per continuare a essere felici a Ingleside quando ai cani i loro cuori si spezzavano. Era stato pure scontroso con Rilla quando lei gli portò i suoi elefanti di velluto blu. Puh! Elefanti di velluto quando Bruno non c'è più. Nan ottenne pure poca attenzione quando arrivò suggerendo che si dovesse dire quello che si pensava a Dio in un sussurro. Non crederai che dia la colpa a Dio per questo? disse Gem severamente. Non hai senso della misura Nan Blythe? Nan se ne andò abbastanza abbattuta a causa che non aveva la minima idea di cosa volesse dire Gem. Gem rimase a guardare accigliato le braci del crepuscolo che si spegnevano. I cani stavano abbaiando ovunque nel Glen. I tribù dei Genkin poteva avere un cane. Tutti eccetto lui. La vita si stendeva davanti a lui come un deserto dove non c'erano cani. Anna si avvicinò e si sedette su un gradino più in basso evitando accuratamente di guardarlo. Gem avvertì la sua comprensione. Mammina disse con voce strozzata perché Bruno non mi voleva bene quando io gliene volevo così tanto? Credi che io sia un tipo di ragazzo che non piace ai cani? Oh no tesoro ricorda come ti amava Gip. Era solo che Bruno aveva tanto amore da dare e lo aveva dato tutto. Ci sono cani simili a quello. Cani con un unico padrone. Comunque Bruno e Roddy sono felici disse Gem con malinconica soddisfazione mentre si chinava e baciava la parte superiore della testa morbida e ricciuta della mamma. Ma non avrò mai un altro cane. Anna pensò che avrebbe dimenticato. Aveva provato le stesse sensazioni quando era morto Gip. Ma non fu così. Il dolore questa volta aveva segnato molto profondamente l'anima di Gem. Cani vennero e andarono a Ingolside. Cani che appartenevano alla famiglia. Furono dei bei cani che Gem coccolava e ci giocava insieme come facevano anche gli altri. Ma non ci fu mai più il cane di Gem. Fino a che un certo Little Dog Monday prenderà possesso del suo cuore e amerà Gem con una devozione maggiore all'affetto di cui era stato capace Bruno. Una devozione che doveva fare storia a Glenn ma mancavano ancora molti anni per quello. E fu un ragazzino molto ma molto solitario quello che si mise nel letto di Gem quella notte. Grazie. 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 Grazie.